Ieri sera, a tale e quale show, la cantante Dejalice si è esibita nei panni di Anna Ozza. E ha incantato l'intero pubblico una grande puntata, quella di ieri sera a tale e quale show. Uno dietro l'altro, i dodici artisti in gara si sono esibiti sul palcoscenico interpretando i più grandi cantanti italiani e mondiali. Oltre a Roberta Bonanno, che ha assunto i panni della recentemente scomparsa Erytha Franklin, la scena è toccata anche ad Alessandra Drusiana, leader Dejalice, che ha vestito i panni della grande e meravigliosa Anna Ozza. La cantante si è esibita sulle note di un'emozione da poco, grande successo della cantante barese. La donna ha letteralmente incantato tutto lo studio, il pubblico da casa e il web. Inoltre, nei panni di Anna Ozza, ha ricevuto una standing ovation a dire poco clamorosa, fu adiuvata da un lungo applauso. Applauso che ha sencito il triunfo mediatico della leader Dejalice.